Vai piano Ale! se mi si impianta lo monto se mi si impianta lo monto vai, 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 tu ale vai dritto se mi si impianta lo monto se mi si impianta lo monto Sì, non lo so, non lo so no no vai che dopo c'è stanchi che la rifacciamo la rifacciamo dove sei fermato prima del tornante no perché ho rallentato troppo quando ho aperto questo aspetto che mi hai fatto già ruzzare come un somaro no ma no alzagli un po' al minimo Ale alzaglielo un po' che almeno non ti si spegne continuamente se no fai più fatica a scenderla che andare facciamo cambio ma si imbizzarrisce con quella lì è un cavallo imbizzarrito no ma alzagli un po' al minimo così ti resta sempre accesa ma va ah sbagliato sbagliato tagli il gas eh tanto gas qua vai su veloce non ti fermare in piedi guarda che lì c'è un tornantino in alto c'è sasso giri dietro a sinistra vai via veloce guarda che lì c'è un po' alzagliato in alto qua magari no no ma qua è facile eh qua è tutta a diritta in piano poi ci fermiamo sopra buong, vai via bello spedito vai tranquillo che qua è diritta tanto lì ci fermiamo e adesso riposiamo salta su in piedi salta su in piedi tanto siamo arrivati eh devi metterti in piedi sennò fai fatica perché non parti da là ho capito ma tanto è diritta fai il saltello e poi vai via lungo vai tranquillo e beato così fai fatica e basta vieni giù a prendergliela aspetta aspetta Ale aspetta che arriva il Marco aspetta salta fuori Marco vai tira quella su non spegnerla eh vai indietro Marco bravo eh con comodo calma a stato con lui uguale a stato con lui uguale guarda va su fino a là, se no ti sei stracata un po' più c'è dove fino? ma va, ma va, fai un giro su c'è un giro su c'è una sola questa mi sa è un altro che compra montesa ci sono sempre provala, provala, fidati quel cacceppa paga non va fa culo se mi rompi il teschio della volpe sono 100 mila euro lui ha detto che la tua è una figata fai il cambio subito c'è sul display su quella lì c'è un giro sui c'è un giro sui c'è un giro sui